Io mi volevo soffermare sulla maschera, cioè il rituale della maschera non è del tutto commerciale, quindi oggi magari l'indossare una maschera, che cosa significa? Già intanto il termine maschera richiama la masca, che sarebbe il nome delle streghe che prendono in Piemonte o comunque nell'area occidentale dell'Italia. La maschera, come da tradizione sciamanica, serve a far trasumanare l'uomo, cioè dargli l'assembianza della divinità che era chiusa nella maschera stessa. Per esempio l'idea di mascherarsi in qualche modo riporta al riavvicinamento della, ovviamente non si parla delle maschere che purtroppo oggi troviamo in commercio, legata a un mondo horror che poi è stato mal accostato, in realtà fa mai, che però riportano la trasumanazione, il nuovo legame tra l'uomo e la divinità, che la maschera ovviamente rappresenta. Senti, non è un caso che le tradizioni...